Guardando per esempio all'affluenza di Svizzeri da questa parte del confine, ci sembra di rilevare una certa differenza tra l'andamento varesino e quello per esempio piemontese. Considerate che così a grandi linee gli arrivi e le presenze in provincia di Varese degli Svizzeri sono circa metà di quelle che ci sono invece nel Verbano e Ocuso e Ossola. Abbiamo circa 80-90 turisti ogni 1000 residenti in provincia e nel VCO ne abbiamo più di 1000, ogni 1000 residenti, quindi stiamo parlando di 10 volte tanto. A questo punto che cos'è che manca? Mancano gli standard, all'interno della provincia di Varese io stesso ho soggiornato in parecchi alberghi e mi sono reso conto proprio della differenza di cultura dell'accoglienza e di standard qualitativi di queste strutture. Intanto noi dobbiamo aumentare, migliorare una politica di inbound da parte verso la Svizzera, quindi dobbiamo fare come fanno altre province, farci migliore pubblicità, farci una comunicazione migliore ma anche infrastrutture. Non so, per esempio il VCO negli anni scorsi ha fatto un accordo con l'ente delle ferrovie svizzere per organizzare dei viaggi con dei treni a Domodossola, per esempio, perché una vocazione turistica può essere naturale ma anche indotta, dipende dai luoghi, no? E quindi questo è un primo elemento forte, cioè rivolgerci maggiormente, maggiormente perché già lo si fa, ma maggiormente al mercato svizzero. Grazie.